Apriamo con la cronaca molestie sessuali a giovani donne ricoverate in un centro di riabilitazione di salute mentale nella provincia di Isernia. I carabinieri hanno denunciato un operatore sanitario di 60 anni, dipendente del centro. È stato denunciato dai carabinieri e sospeso dall'impiego un 60enne di Isernia, operatore sanitario in un centro di riabilitazione psicosociale della provincia Pentra. L'uomo avrebbe molestato sessualmente giovani donne ricoverate nella medesima struttura. Stando alla ricostruzione dei militari guidati dal maggiore Salvatore Vitiello, non si sarebbero consumati atti completi. Pesanti palpeggiamenti nelle parti intime, due i fatti accertati e risalenti a qualche mese fa. Decisive le segnalazioni che sono giunte dall'interno del centro, probabilmente da alcuni colleghi. Dopo la denuncia al 60enne è stata notificata la sospensione dell'impiego. Ulteriori indagini sono in corso da parte dei carabinieri anche per accertare se analoghi comportamenti siano stati commessi ai danni di altri pazienti ospiti nel passato del centro.